Allora intanto di nuovo benvenuti a tutti e a questo secondo incontro dedicato al Museo degli Uffizi, alle Gallerie degli Uffizi che Francesca ci ha introdotto la scorsa settimana e una delle collezioni insomma più famose, più celebri, anche più importanti che abbiamo in Italia. Uno scrigno di arte rinascimentale, c'è un po' di tutto in questa collezione ma noi ci siamo concentrati volutamente proprio come filo conduttore su opere pittoriche perché la collezione delle pitture insomma del Rinascimento negli Uffizi è veramente straordinaria. Ci siamo concentrati proprio su opere che in qualche modo erano legate alla città di Firenze, ai medici, comunque al clima possiamo dire, no, culturale di quel periodo. E quindi in questo secondo appuntamento proseguiamo un po' su questa linea cercando di in qualche modo curiosare attraverso i dettagli, attraverso magari anche curiosità e storie particolari all'interno di opere che sono quasi tutte celebri, opere che sicuramente avete visto, se non dal vivo avete probabilmente conoscete, opere che insomma hanno fatto la storia dell'arte, quindi pittori famosi. Tra i grandi capolavori ho inserito anche qualche dipinto un po' meno noto, anche così per dare un taglio diverso a questo incontro, quindi scoprire un po' quelli che sono gli artisti che nel pieno diciamo al fine Quattrocento e nel pieno Cinquecento hanno lasciato le loro opere nella città di Firenze e che poi logicamente sono entrate in momenti diversi all'interno delle collezioni degli Uffizi. Sarà un viaggio non proprio cronologico ma ecco noi attraverseremo circa un secolo dagli anni Quaranta, Cinquanta del Quattrocento per arrivare poi insomma nel pieno Cinquecento nel manierismo. Sicuramente non potevamo non inserire in questo nostro viaggio, nella pittura e nell'arte conservata agli Uffizi, non potevamo non inserire questo famoso dittico, questo doppio ritratto che avrete probabilmente visto, è una delle opere più celebri di Piero della Francesca, quindi un artista che in questo caso ha lavorato per un personaggio ben noto anche a noi Umbri, Federico da Montefeltro, che ha avuto anche un ruolo importante nella città di Gubbio, c'è il Palazzo Ducale, Gubbio ha fatto parte per un periodo proprio del Ducato di Urbino e quindi una figura che noi conosciamo bene, tra l'altro lui nacque proprio in Umbria, quindi insomma un personaggio legato anche alla nostra regione e lo conosciamo soprattutto grazie ai ritratti di Piero della Francesca e anche in altre opere il nostro straordinario pittore lo ritrae molto spesso di profilo, come in questo bellissimo dipinto che ovviamente lo mostra accanto alla sua sposa, Battista Sforza, un ritratto quello di Piero della Francesca che guardate è eccezionale perché riesce, recuperando un po' la tradizione antica delle monete, romane, delle figi classiche, riesce a delle medaglie, riesce a rappresentarci anche solo di profilo una certa espressività, un certo carattere anche all'interno di un idealismo che era tipico un po' della pittura di Piero della Francesca, una luce meravigliosa, lui è il pittore della prospettiva, il pittore della luminosità, di questi effetti atmosferici straordinari e quindi l'opera qui la vediamo proprio nel suo splendore, immaginate che erano praticamente esposti in questo modo, al tempo erano uniti questi due ritratti e potevano essere chiusi in modo tale da essere anche trasportati. Che cosa dobbiamo notare? Intanto guardate sono quasi, sembra quasi un'opera che ci ipnotizza, no? C'è questa idea dell'infinitamente piccolo, dell'infinitamente grande, dell'infinitamente lontano e dell'infinitamente vicino. In qualche modo questa lettura un po' anche filosofica ci viene data da un grande storico dell'arte che ha proprio, e anche diciamo filosofo Panoschi, che è iconologo, che ha proprio studiato questa idea straordinaria di Piero della Francesca di far stagliare queste figure come delle figi, no? Con un contorno molto nitido su un paesaggio che si vede perfettamente, è stato ripreso dall'alto, una sorta di paesaggio a volo d'uccello, no? Queste lontananze, queste colline, questo fiume, l'idea anche di una calma, di una serenità, no? Quindi un po' anche il ruolo di Federico da Montefeltro che come grande condottiero, grande uomo politico, grande mecenate, dominava in qualche modo, no? Con la sua figura tutto ciò che lo circondava. Ma quello che dobbiamo notare è soprattutto, sono soprattutto i dettagli, perché Piero della Francesca ovviamente è un pittore che sicuramente ha visto la pittura fiamminga, si è appassionato anche a quella che era la tecnica dell'olio, quindi la pittura d'olio, che riusciva a rendere questi effetti straordinari. Vi faccio vedere da vicino questi due ritratti, perché davvero sono di una grande potenza pur in una grande semplicità, perché noi abbiamo questa luce diffusa, no? Che veramente è straordinaria, ma allo stesso tempo dettagli eccezionali. Guardate il diadema, le perle, questa collana di perle, questa attenzione minuziosa che era tipica della pittura fiamminga, una grande attenzione alla narrazione e ovviamente ai dettagli minuti. Stessa cosa per quelli che potevano essere degli elementi dei difetti, no? In qualche modo, Federico da Montefeltro è rappresentato con un grande realismo. Si vedono i nei, si vedono le imperfezioni del volto, sulla pelle, è ritratto di profilo e si sa insomma che il motivo principale era perché lui aveva perso l'occhio destro in un torneo e come vedete anche il profilo di Federico è ben riconoscibile. Anche in altri ritratti molto spesso viene rappresentato con questo naso, no? Con ovviamente l'imperfezione dovuta a questo duello. Lui è rappresentato come simbolo del, in qualche modo, della potenza ma allo stesso tempo della moderazione e quindi se osserviamo ecco questi due ritratti possiamo anche immaginare che il retro del nostro dittico in maniera celebrativa, guardate, era dipinto con due allegorie, si vede un po' lo stesso stile, no? Queste colline che sembrano tante isolette che si perdono all'orizzonte e poi queste allegorie, no? Di, della, della moderazione, della calma, della, comunque della fama, del trionfo per Federico e allo stesso tempo caratteristiche congeniali alla sua sposa Battista Sforza con un'iscrizione, ovviamente in latino, dedicatoria. Quindi era veramente un quadro celebrativo e Piero della Francesca, no? Ha reso, possiamo dire, veramente onore a queste due figure. Bisognerebbe vederli dal vivo per, no? Veramente entrare nel quadro, ma già ecco da questa visuale ravvicinata si può apprezzare, no? Direi la sua capacità, quella di Piero della Francesca, di cogliere ogni dettaglio nonostante, no? Un effetto di grande astrazione, di grande idealismo, quindi l'idea comunque di celebrare una figura importante nella storia. Quindi quest'opera è una delle più celebri sicuramente che fa parte della pittura del secondo Quattrocento, che fa parte delle collezioni degli Uffizi. Piero della Francesca ovviamente è un'artista che ha lavorato anche a Firenze, insomma, diciamo nell'ambito fiorentino, ma aveva altre origini, quindi non era nato a Firenze. Invece qui vi porto in qualche modo, no? A conoscere un'artista che era proprio un pittore, un protagonista della Firenze della metà del Quattrocento, che è il famoso Ghirlandaio. L'abbiamo incontrato anche durante la lezione con Cettina sulla Cappella Sistina, perché lui ovviamente poi lavorò insieme ad altri Botticelli, Perugino e via dicendo, nella Cappella Sistina. È stato un artista, diciamo, di grande narrazione. Lui si occupava principalmente di raccontare quella che era un po' la vita, possiamo dire, della Firenze del tempo. Quindi questa è un'adorazione molto classica, no? Un tema molto frequente della Firenze del tempo. Eppure non c'è nulla dell'umiltà, della semplicità, no? Che conosciamo nella scena della natività. Qui è tutto un fasto, una celebrazione della vita colta, elegante della Firenze e Medicia. Quindi abbiamo, guardate anche, no? Un semplice dettaglio, questi abiti, no? Molto ricchi, molto sfarsosi, che sono tipici del tempo di Ghirlandaio. Lui si ritrae, come era Duopo all'epoca, gli artisti si autoritraevano molto spesso nei dipinti. E qui sulla destra c'è un uomo con un copricapo giallo, che è molto probabilmente il ritratto, appunto, di Ghirlandaio. Lui era la sua bottega, un po' come quella del Verrocchio. Era una delle botteghe più conosciute e anche più frequentate dai pittori del tempo. Era un po' il Pintoricchio della Firenze di quegli anni. Noi abbiamo la nostra bellissima natività, la nostra bellissima Cappella Bella a Spello, che ha diversi, no? Elementi in comune con questo dipinto. E il nostro Ghirlandaio faceva un po' lo stesso, poco tempo prima. Quindi si occupava di raccontare attraverso i dettagli minuziosissimi. Guardate, no? Questa borraccia, questo paniere, il prato fiorito, ma anche la capanna. Guardate questa idea veramente curiosa, quasi una forzatura fantasiosa, di inserire questa capanna molto esile, no? Semplice, povera, all'interno, logicamente, di un'architettura classica in rovina, no? Quindi l'idea poi simbolica del cristianesimo, no? Che trionfa sul paganesimo. La pittura è una pittura di grande eleganza, di grande contrasto cromatico, di grandi lumeggiature. Guardate queste armature straordinarie, i volti. Tutto, nulla è lasciato al caso, tutto è definito in maniera molto precisa. Allo stesso tempo era un artista anche molto attento alle espressioni, quindi ecco questa Maria dolcissima, molto umana. C'erano dei prototipi, perché Ghirlandaio, che era, come vi dicevo, fu il protagonista sicuramente nel secondo quattrocento della vita culturale fiorentina, quindi molto ricercato come pittore dalle famiglie del tempo, però aveva guardato, aveva guardato ad altri modelli, quindi c'erano dei prototipi. Domenico Veneziano, e questo è un altro tondo con l'adorazione di Domenico Veneziano, ancora, come vedete, un pittore un po' tardogotico, no? Con questa attenzione alla natura, un ideale quasi un po' cortese, no? Di questa natività e di questa adorazione. E Botticelli, un Sandro Botticelli, con questa adorazione che è un po' a metà tra Ghirlandaio e Domenico Veneziano. Non ci deve stupire la forma perché il tondo era, lo vedremo anche nel tondo Doni, era una tipologia molto utilizzata all'epoca proprio per le dimore private, per le camere da letto, per gli ambienti intimi, quindi poteva essere rappresentato sul tondo un'iconografia piuttosto che un'altra, ma era comunque una forma molto frequente nella cultura fiorentina del tempo. Noi passiamo adesso, facciamo una piccola parentesi, quindi ci siamo immersi nello sfarso della pittura di Ghirlandaio e adesso invece veramente apriamo una parentesi che ci porterà alla scoperta. Abbiamo già citato un po' la pittura fiamminga, ma ora ci immergeremo in due opere che sono custodite agli uffizi e che sono una testimonianza importantissima della pittura delle Fiandre. Ora Firenze in modo particolare, in quegli anni, parliamo della metà del Quattrocento, ebbe veramente una presenza massiccia di artisti fiamminghi che viaggiavano, si spostavano, venivano in Italia, anche a Roma, sappiamo insomma, di molti soggiorni di artisti fiamminghi famosi anche a Roma, ma proprio a Firenze ci fu una sorta di connubio. Molti artisti fiamminghi entrarono in contatto con pittori fiorentini e diciamo le due scuole si unirono in qualche modo, si creò veramente un connubio molto interessante dal punto di vista pittorico. Perché le Fiandre e Firenze? Intanto perché i medici e in generale molte famiglie importanti fiorentine, di banchieri, di tessitori, avevano le loro filiali proprio a Bruges, quindi c'era comunque un legame commerciale, di scambio possiamo dire, con le Fiandre e poi logicamente come viaggiavano le merci, viaggiavano anche le idee, magari le incisioni, i disegni, quindi ci fu proprio uno scambio tra la pittura fiorentina e quella fiamminga. Ecco, qui abbiamo uno dei più celebri artisti fiamminghi, che è Roger van der Weyden, che ci lascia un'opera veramente drammatica, veramente ricca di pathos, proprio carica di quella, diciamo, cultura anche teologica del Nord Europa che era molto diversa dall'interpretazione nostra, insomma un po' più mediterranea. E La sepoltura di Cristo in realtà è un'opera che non ha grandi, non abbiamo grandi informazioni. Sappiamo che fu realizzata probabilmente guardando un dipinto di Beato Angelico, eccolo, sulla sinistra lo vedete. Beato Angelico lo aveva realizzato per il convento di San Marco e era la predella di un dipinto più grande e probabilmente questo nostro artista fiammingo lo vide e prese proprio l'idea da Beato Angelico di realizzare questo sepolcro aperto, scuro, rettangolare, questa composizione centrale con queste rocce, anche se, come vedete, poi il nostro Roger van der Weyden cambia completamente la scena, arricchendola di tutto quel mondo tipico della cultura fiamminga, una visione lenticolare delle piante, degli alberi, delle rocce, un'attenzione straordinaria all'espressività dei volti. Guardate com'è, diciamo, tutto drammatico, no? Ma di un dramma anche forse troppo caricato, anche le linee sono spigolose, questo corpo, no? Che si impone molto magro, scarno, al centro della scena. La pittura fiamminga era questa, era una pittura di grande indagine psicologica, di grande indagine proprio espressiva, si cercava attraverso un dettaglio come questo, no? Delle lacrime che solcano comunque il viso, qui abbiamo diversi personaggi, li riconosciamo, Giuseppe d'Arimatea, Nicodemo, Maria, San Giovanni, e la Maddalena, tutti, no? A cerchio intorno a Gesù. E logicamente quello che doveva trasmettere l'opera era un coinvolgimento emotivo di chi la osservava. Quindi guardate, ecco, la forza proprio, la carica spirituale, no? Di queste immagini. Non solo le lacrime, che sono di un realismo straordinario, tutto questo era possibile grazie soprattutto alla tecnica della pittura ad olio, che permetteva degli effetti anche, no? Proprio di dettaglio, molto più minuziosi, molto più attenti e ovviamente descrittivi rispetto ad una tecnica diversa, che poteva essere la fresco, la tempera. E quindi ecco, la presenza fiamminga è importante, perché poi, come abbiamo visto con Ghirlandaio, ma con tanti altri pittori, ci sarà uno scambio. Quindi i nostri artisti guarderanno alla pittura fiamminga e prenderanno, no? Quello che poteva essere ovviamente utile per il nuovo stile rinascimentale. E l'altro grande artista che è esposto agli uffizi e che appunto viene da questa cultura fiamminga è Hugo van der Goes. Lui è famoso per diverse opere, ma in modo particolare questo dipinto, insomma, è celebre anche solo per le dimensioni, è un'opera enorme, è un trittico, come vedete, che volendo si poteva anche chiudere per essere trasportato, per essere ovviamente custodito. Ecco, così lo vediamo chiuso. Quindi anche le ante erano dipinte, l'esterno era dipinto a monocromo con un'annunciazione bellissima. Tra l'altro guardate questo effetto scultorio, no? Straordinario, oppure è una pittura fatta con un doppio colore. L'opera è un trittico, come vi dicevo, che celebra la natività. La natività è l'adorazione, in qualche modo, no? Perché è una scena, diciamo, che ci mostra due momenti diversi, ma è una scena straordinaria per la ricchezza delle figure, dei dettagli, ma è ancora più interessante la sua storia. Perché è a Firenze e perché viene chiamata trittico Portinari. Il committente Tommaso Portinari aveva, diciamo, il ruolo, aveva aperto una sorta, diciamo, di filiale a Bruges e quindi lui era fiorentino, ma viveva e comunque si spostava frequentemente a Bruges, anche con la famiglia, e aveva conosciuto l'arte di questo pittore. Ovviamente se ne innamora e chiede, gli commissiona un dipinto che dovesse celebrare la natività, ma anche la sua famiglia. Quindi l'opera venne realizzata da questo artista a Bruges e poi venne portata con un viaggio rocambolesco, complicato e difficile, via mare, fino a, ovviamente, in Italia, probabilmente arrivò proprio sulla costa tirrenica e poi venne portata a Firenze e arrivò, ovviamente, entrò nella città con grande, no, anche sorprese, grande gioia, perché comunque si attendeva questo grande capolavoro della pittura fiamminga. E guardate cosa è rappresentato, no, è rappresentato una scena abbastanza tradizionale, anche se le figure sono molto drammatiche, è un'epifania tragica, no, è la nascita, è la rivelazione, ma allo stesso tempo notiamo degli elementi che stonano un pochino, si sente più una sensazione di malinconia, di tristezza che di gioia, no? Guardate anche il manto dell'abito di Maria, è di un blu scuro, questo bambino Gesù che è adagiato a terra quasi come abbandonato, no, in questa sorta di solitudine piccolo su questa terra. Colori molto scuri e poi guardate, ai lati troviamo dei santi, sono Sant'Antonio e Sant'Ommaso, il protettore della figura che vedete qui che è il committente. Eccolo, il nostro Tommaso Portinari, è inginocchiato con i suoi due figli e sulla destra quindi è divisa la scena come vedete al maschile e al femminile, sulla destra la moglie con questo abito molto particolare, guardate un po' un mix tra diciamo la cultura fiamminga e quella fiorentina e la sua figlioletta con le due sante Margherita e Maddalena. E poi guardate, una natura morta in primo piano straordinaria, gli angeli che sono meravigliosi nei loro vestiti, adesso li vediamo un po' più da vicino, guardate che sfarso, non dimenticate che le fiandre erano famose anche proprio per la manifattura tessile, in questo c'era un legame molto stretto ovviamente con Firenze, lo abbiamo già visto, questi angeli molto nordici nei colori, negli abiti, nelle ali così colorate, la natura morta che vediamo in primo piano è però forse uno dei dettagli più interessanti, adesso ve la faccio vedere, prima passiamo giusto a dare uno sguardo a quelle che sono le due ante laterali perché qui vediamo meglio il nostro committente, Tommaso Portinari con i suoi due figli e poi a destra invece vi dicevo questa scena tutta al femminile bellissima anche nello sfondo, questa è la pittura fiamminga, guardate nulla è tralasciato, questi alberi con dei corvi, con queste figure, questi tronchi sottili che si stagliano sullo sfondo, come vedete c'è una tematica abbastanza cupa, questa era anche un po' la pittura fiamminga, poi tra l'altro non dimentichiamo che questo artista era un artista molto particolare, pensate che morì praticamente a causa di una crisi depressiva, fu internato, ebbe diversi problemi mentali, era un animo probabilmente abbastanza particolare, introverso e questa epifania, un'epifania come dicevo molto particolare, molto meno gioiosa di quelle che si trovavano nella cultura italiana. Guardate la bellezza di questi volti che si capisce perfettamente non sono nostri, sono di un'altra cultura, hanno queste acconciature molto alte, queste fronti, la fronte molto come vedete spaziosa, anche il taglio degli occhi, c'è sicuramente una rappresentazione di quella che era la bellezza del contesto proprio, ovviamente del pittore. e poi eccola la nostra bellissimissima natura morta in primo piano che è veramente meravigliosa con questo vaso che richiama anche la ceramica appunto delle fiandre tipica di quel periodo insomma, se pensate anche a tanti altri quadri di altri pittori di Vermeer, insomma erano famose le fiandre proprio come centro manifatturiero e anche di produzione di ceramica straordinaria e i gigli, abbiamo anche i garofani, abbiamo questo fascio di paglia quindi ovviamente tutti elementi che richiamavano anche la passione di Cristo quindi segni premonitori di quella che ovviamente poi sarebbe stata il futuro di Cristo quindi ecco un'opera meravigliosa anche dal ovviamente dal vivo monumentale che è ricchissima ricchissima di dettagli che ci portano ovviamente in un mondo molto diverso dal nostro. chi è che guardò questa pittura? Noi sappiamo che quest'opera venne osservata copiata da tanti artisti fece molto scalpore nella Firenze del tempo non ultimo il nostro Ghirlandaio che avete conosciuto all'inizio nell'adorazione un pittore che replica molte volte il tema dell'adorazione e guardate Ghirlandaio in un'adorazione dei pastori molto come vedete fiorentina copia si ispira sicuramente ai nostri tre pastori del dipinto del trittico Portinari per replicarli in maniera ovviamente meno caratterizzata meno grottesca meno umile in questa scena quindi sicuramente un dipinto che fece un po' ecco parlare di sé nella Firenze del secondo quattrocento gli uffizi hanno una importante collezione fiamminga proprio perché possiamo dire che ecco fu una parte integrante della storia dell'arte del tempo ma ora noi lasciamo la pittura fiamminga ci avventuriamo pian pianino sempre di più verso celebri artisti e celebri dipinti di Sandro Botticelli abbiamo già visto la scorsa volta la bellissima primavera quindi siamo già entrati nel mondo neoplatonico un po' pagano un po' classicheggiante di Botticelli io qui vi ho messo un'opera che non è famosa come la nascita di Venere che vedremo fra pochissimo ma che veramente possiamo considerare un'icona del rinascimento intanto di nuovo vedete come torna questa forma il tondo il tondo è veramente forse possiamo dire una delle forme e una dei diciamo dei manufatti che meglio appartiene alla cultura proprio di questa nobiltà fiorentina e Botticelli si prestò come artista protagonista straordinario di quel clima culturale a realizzare un'opera di questo tipo in cui come vedete le figure seguono quasi proprio la forma circolare come una sorta di illissi ma è un'opera straordinaria noi sappiamo molto poco di questo dipinto in realtà non sappiamo bene la committenza sono state fatte diverse ipotesi è la Madonna del Magnificat lo sappiamo perché come vedete la Maria è accompagnata da Gesù nello scrivere questa preghiera straordinaria appunto il Magnificat si legge molto bene nel libro che sta scrivendo la parola Magnificat quindi un'idea di celebrare Maria come regina dei cieli come figura cardine ma allo stesso tempo una celebrazione che qualcuno ha pensato potesse essere quella della famiglia Medici quindi lei potrebbe essere Lucrezia Tornabuoni molle di Piero De Medici e intorno i suoi figli tra i figli di Lucrezia Tornabuoni e Piero De Medici c'era anche Lorenzo De Medici e Giuliano De Medici i famosi fratelli che poi sono legati anche a tutta la congiura dei pazzi e via dicendo le due sorelle che si affacciano e la terza sorella un po' più grande Nannina e qui nelle vesti del bambino Gesù la figlioletta più piccola appunto Lucrezia quindi c'è stata questa interpretazione molto possiamo dire quasi azzardata però è affascinante vedere come Botticelli ancora una volta unisce sacro e profano in quest'opera c'è un paesaggio sullo sfondo c'è questa idea di lontananza ma guardate i colori colori molto pieni colori smaltati ci si sta avvicinando anche un po' al manierismo bellissimo questo gesto della mano sembra quasi un ballo una gestualità dolcissima raffinatissima guardate i colori quest'opera diciamo che parla da sola è un trionfo di eleganza di raffinatezza anche i capelli di questi di questi angeli di questi giovinetti che potrebbero essere appunto i suoi figli non lo sappiamo però sono veramente di una grazia straordinaria e il volto di Maria come spesso accadeva a Botticelli è molto spesso ripetuto quindi lui sicuramente aveva delle modelle guardava le donne del suo tempo e spesso anche le donne proprio del casato medici appunto guardate la leggerezza di questo velo questi capelli no dorati che si che si avvolgono su se stessi veramente un'opera tra sacro e profano di grande fascino quindi Botticelli è sicuramente il pittore della bellezza dell'armonia di questa eleganza tipica della cultura medicea e quindi passiamo all'altra grande opera celebre conservata agli uffizi di Botticelli in realtà qui ci sono molti più dubbi e molti più enigmi rispetto alla primavera che avete scoperto la scorsa settimana perché questa è un'opera che ha anche dei dubbi legati proprio alla committenza e sappiamo soltanto che appunto fu trovata insieme all'altra opera la primavera nella villa Castello dei Medici sappiamo poco anche sulla sua simbologia perché ci sono veramente tante chiavi di lettura sicuramente Venere questo è in dubbio perché il dipinto è proprio citato così nascita di Venere una Venere che però è tra sacro e profano c'è una una classicità nella figura lo vedremo anche fra poco che si unisce a una grande spiritualità perché è una versione possiamo dire pagana del battesimo c'è questa idea dell'acqua di questa nascita dall'acqua Venere sappiamo che secondo la mitologia nacque proprio dalla spuma del mare e qui sospinta da due personaggi che abbiamo già conosciuto l'altra volta perché Venere nel quadro della primavera se vi ricordate era arrivata proprio sull'isola dopo la sua nascita sospinta da Zefiro e Cloris che sono amanti sono abbracciati sono uniti in questa sorta guardate di corpo unico avvinghiati in questo abbraccio la sospingono con queste rose simbolo della bellezza femminile verso quest'isola dove viene accolta da una delle tre grazie probabilmente dall'ora con quest'abito bellissimo pieno di fiori però guardate la figura di Venere non è assolutamente sensuale è di una grande castità di una grande semplicità e anche la posizione ricorda moltissimo Cristo durante la scena del battesimo con San Giovanni Battista sul fiume Giordano quindi sicuramente ci può essere quasi una sorta di legame tra questa figura di Venere e ovviamente una lettura un po' più spirituale in chiave cristiana però Venere viene da un prototipo Botticelli era un grande osservatore dell'arte antica riletta in questo caso in maniera straordinariamente elegante semplice armoniosa guarda all'antico guarda le famose sculture della Venere pudica che si ce ne sono tante di repliche di questa diciamo icona della scultura greca che si copre come vedete i seni e il pube quindi una bellezza pudica una bellezza comunque che si svela ma con molta ovviamente castità e guardate anche la perfezione del corpo è una bellezza ideale assolutamente questa era un po' anche l'idea del neoplatonismo questo spirito e questa materia che si uniscono in una figura di perfezione e richiama un po' anche la sezione aurea questo corpo perfetto candido veramente straordinaria i dettagli sono bellissimi anche all'interno di quest'opera guardate ecco questa idea di utilizzare le rose con pochi tratti di colore molto spesso legate alla figura appunto della bellezza femminile che è bella ma allo stesso tempo caduca quindi ovviamente di breve durata e che sfiorisce un po' come il fiore un po' come la rosa le lumeggiature questo è tutto oro no? quello che vedete è ovviamente un uso anche importante dell'oro e poi logicamente ecco qui diciamo l'immagine parla da sola questa è diventata un'icona della bellezza di Botticelli ma diciamo una bellezza di più ampio raggio è la figura sicuramente per eccellenza più riprodotta anche no? del rinascimento italiano è un viso di una dolcezza di un mistero straordinario e sicuramente Botticelli guardò alla bellezza del suo tempo ma in questo modo in questo caso guardate la rende veramente quasi assoluta no? la purifica quindi ecco un'immagine che ha fatto proprio la storia dell'arte e questi occhi che sono persi no? sicuramente in pensieri no? in astrazioni in momenti di quasi riflessione filosofica un po' come era vi dicevo un po' tutta la cultura neoplatonica che il nostro Botticelli seguiva e ecco poi i dettagli straordinari anche la Francesca l'altra volta vi ha mostrato no? la quantità di fiori che erano dipinti su quel tappeto fiorito no? della scena della primavera Botticelli era un grande osservatore anche amante probabilmente della botanica perché guardate questa cintura bellissima di roselline selvatiche le margherite che no? i fiordalisi che sono dipinti su questo abito no? di questa fanciulla che no? con questo manto al vento accoglie il corpo nudo no? vergine di venere quindi veramente un'opera eccezionale per tanti motivi c'è anche un riferimento alla famiglia medici molto probabilmente qualcuno ha voluto proprio interpretare questi alberi che si vedono proprio dietro alla figura della 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 fanciulla che accoglie venere ha voluto vedere in questi alberi i melaranci che venivano anche chiamati mala medica perché avevano delle qualità terapeutiche non si vedono gli aranci ma si vedono i fiori e c'era probabilmente un riferimento una volontà proprio di riferirsi al nome della famiglia medici quindi un'opera che sicuramente si lega alla famiglia medici per Francesco de' Medici e comunque a quel clima vi dicevo straordinariamente stimolante filosofico neoplatonico del tempo e che Botticelli ha saputo interpretare guardate con una capacità veramente eccellente sia a livello pittorico ma anche proprio a livello simbolico e iconografico ecco quindi la la nascita di Venere è per eccellenza possiamo dire un po' il capolavoro di questa di questa nostra di questa nostra serata dedicata al rinascimento degli uffizi ancora un altro dettaglio bellissimo di queste leggero questa luce quasi veramente astratta che invade un po' tutto una luce che non crea le forme lo abbiamo visto anche prima è una luce diffusa che ci dà proprio questa idea di rarefazione di perfezione queste ondine del mare che ci mostrano proprio la nascita di Venere ma Botticelli lo abbiamo visto è un po' come altri artisti della cerchia in qualche modo neoplatonica legato a tutta una serie di concetti anche molto particolari in quegli anni a Firenze però c'era un altro artista che tutti voi conoscete che il mondo intero conosce perché è stato un genio un artista possiamo dire a 360 gradi niente a che vedere con un Botticelli con un Ghirlandaio con un Perugino con un Pintoricchio perché era effettivamente un genio un indagatore della realtà della natura lui ha sempre cercato di studiare di scoprire di inventare lo sapete insomma i suoi disegni i suoi studi i suoi scritti sono veramente una summa di genialità e agli uffizi è conservata una delle opere più intriganti affascinanti misteriose di Leonardo da Vinci un Leonardo da Vinci trentenne quindi giovane che si cimenta in un'opera molto complessa ma diciamo che lui vuole rendere complessa e che è una delle tante adorazioni dei magi ora come avete visto di adorazioni dei magi a Firenze ce ne sono tantissime andava molto di moda come tema perché si poteva attraverso questa iconografia ci si poteva divertire nel dipingere anche lo sfarso della Firenze del tempo ma in questo caso Leonardo rivoluziona completamente l'opera non c'è nulla di sfarsoso non c'è nulla di gioioso non c'è nulla di composto tutto è tutto ruota intorno alla figura di Maria e del bambino Gesù come una sorta di vortice vedete è un'opera tra l'altro importantissima perché è incompiuta come tante altre opere di Leonardo non a caso lui era vi dicevo un genio quindi molto spesso lasciava le opere incompiute perché si dedicava ad altro a studiare il moto degli uccelli il moto degli astri e lo scorrere dell'acqua insomma era veramente una personalità molto particolare e lui ha lasciato tantissime opere incompiute qui però effettivamente si vede molto di ciò che era la genesi del quadro ora perché l'ha lasciata incompiuta lui era stato chiamato dai monaci della chiesa di San Giovanni a Scopeto di San Donato a Scopeto poco fuori Firenze per realizzare questa adorazione l'ha imposta fa molti disegni poi però deve partire per Milano e quindi la lascia incompiuta ma è proprio questo diciamo il vantaggio che noi abbiamo perché possiamo vedere tutto ciò che lui aveva disegnato aveva pensato ideato sullo sfondo per esempio che poi lascia incompiuto ci sono vari elementi c'è un edificio sullo sfondo in costruzione con una grande scalinata ci sono dei cavalli che si adduffano delle lotte ci sono tutti i personaggi intorno a Maria che hanno dei volti con degli elementi caratteristici un po' sconvolti da questa epifania come se diciamo l'umanità rimanesse sconvolta dall'arrivo del Messia quindi un'immagine molto diversa lui stravolge anche l'iconografia dell'adorazione un'opera che è stata restaurata con un restauro molto importante guardate che differenza a sinistra avete l'opera che prima del 2016 era in questo stato a causa di vernici di ritocchi di ovviamente restauri poco consoni fatti attraverso i secoli un'opera che è composta da dieci assi di legno di pioppo e quindi ovviamente anche il legno sapete con il tempo si muove attraverso a causa dell'umidità ovviamente quindi questo crea dei problemi anche per la pellicola pittorica e via dicendo è stata finalmente ripulita con una ripulitura importante e attraverso la ripulitura è stato portato alla luce tutto ciò che ovviamente non si riusciva a vedere questo era lo stato guardate del quadro prima del restauro quindi veramente poco leggibile i dettagli sono eccezionali questo è lo sfondo perché vi dicevo è interessante perché è come se fosse un bozzetto come se noi potessimo vedere ciò che c'era nella mente di Leonardo prima della conclusione dell'opera interessante questa scalinata questo edificio che abbiamo visto all'inizio non sappiamo bene che cosa rappresenti qualcuno pensa il Tempio di Gerusalemme oppure addirittura la scalinata della chiesa di San Mignato al monte a Firenze che era proprio in quegli anni in costruzione e questo ce lo fa pensare il fatto che ci siano delle figure che sembrano degli operai con un capomastro degli uomini al lavoro quindi un'idea di cantiere quindi potrebbe essere che Leonardo abbiano inserito un dettaglio legato a quello che accadeva a Firenze in quegli anni ora i disegni sono pochi in realtà noi ne abbiamo due famosi questo viene dal Louvre è interessante perché si vede già molto bene come Leonardo fosse un carattere sempre in divenire nel disegno cambiava idea sempre in evoluzione lui infatti vedete ha fatto la scalinata una serie di figure di cavalli e poi ci aveva messo in realtà nella sua idea iniziale una capanna perché nell'adorazione dei magi normalmente c'è sullo sfondo inquadrata la capanna poi ha cambiato probabilmente idea in corso d'opera altri due disegni anzi sulla destra è quel disegno che ci mostra delle figure che lui ha tratteggiato e che dovevano far parte poi vestiti ovviamente della scena dell'adorazione e poi i cavalli i cavalli li amava molto anche proprio lo studio dell'anatomia animale di questi cavalli in lotta lo vedremo anche fra pochissimo ma soprattutto lo studio dell'animo umano lo studio di quelli che erano le espressioni dell'animo umano lui ha fatto anche tantissimi disegni che mostravano proprio questa veramente questo aspetto caratteriale questi volti sono tutti diversi come vedete non c'è nulla di gioioso tutti sono sconvolti in maniera diversa da questa epifania da questa natività e è incredibile come in pochissimi con pochissimi tratti si è riuscito proprio a rappresentare l'umanità e poi vi dicevo i cavalli questo è un dettaglio ovviamente qui si vede molto non si vede molto bene ma lui usava la biacca usava il carboncino usava una terra marrone per creare diciamo il bozzetto poi quest'opera doveva essere terminata e non fu terminata quindi noi ce l'abbiamo in fase di abbozzo è uno dei più grandi dei più bei incompiuti di Leonardo e la battaglia di Anghiari che noi sappiamo insomma poi immaginiamo che Leonardo l'abbia realizzata proprio in Palazzo Vecchio sotto al dipinto di Vasari e lui ha fatto diversi studi appunto questa idea del cavallo con questi muscoli con questa potenza era uno dei suoi temi prediletti cosa ecco qui lo vediamo molto bene guardate che meraviglia anche in pochi tratti veramente un artista eccezionale che cosa c'è cosa è stato fatto al posto dell'adorazione lasciata incompiuta ecco Leonardo parte lascia Firenze per Milano e quindi questi poveri monaci della chiesa di San Donato a Scopeto si ritrovano senza quadro e quindi chiamano Filippino Lippi Filippino Lippi figlio di Filippo Lippi realizzerà appunto cercando un po' di richiamare in alcuni casi la composizione di Leonardo ma di tutt'altro genere realizzerà questa adorazione che andrà a sostituire il quadro di Leonardo che in qualche modo grazie al fatto che era rimasto incompiuto venne quasi abbandonato possiamo dire non vi ho fatto notare un elemento questi due alberi è un albero di palma è una palma ovviamente simbolo del martirio quindi anche qui vedete poi una prefigurazione del futuro e un albero invece di alloro e quindi anche questo anche in questo caso simbolico celebrativo e quindi ecco l'idea poi di unire anche dei simboli logicamente sacri due figure che non abbiamo notato sono queste in primo piano un uomo anziano pensieroso che sta come riflettendo su quello che sta accadendo e un ragazzo giovane che guarda fuori dal quadro chi sono? ora questo dipinto è pieno di enigmi come vi dicevo anche perché sullo sfondo avete visto dei cavalli in lotta delle scene comunque di scontro politico quindi veramente scene quasi da terremoto da cataclisma quindi è un quadro molto enigmatico queste due figure non sappiamo chi rappresentino si è pensato che in questo giovane Leonardo abbia voluto fare una sorta di autoritratto quindi inserire lui stesso trentenne nel quadro e allora adesso cambiamo proprio cambiamo proprio atmosfera quindi ho cercato di mettere opere molto diverse l'una dall'altra anche per non annoiarvi un altro grande artista forse uno dei più importanti ritrattisti del tempo della famiglia Medici siamo un po' più avanti è il famoso Agnolo Bronzino Bronzino è stato un esponente della pittura diciamo del tardo rinascimento a cavallo con il manierismo che è famoso per essere stato il ritrattista per eccellenza dei Medici e qui abbiamo un quadro famosissimo guardate quest'opera è molto celebre per vari motivi in modo particolare per questa descrizione dettagliatissima dell'abito della collana dei gioielli delle perle ma anche per tanti piccoli elementi che adesso vi farò notare e che ad uno sguardo veloce non si notano allora lei chi è? lei è Eleonora di Toledo che sposò Cosimo dei Medici Cosimo dei Medici insomma lo sappiamo ne parlavamo la scorsa settimana è stato un po' l'iniziatore possiamo dire della collezione degli uffizi un grande uomo politico un mecenato un grande amante anche lui dell'arte è colui che ha voluto gli uffizi poi dopo ovviamente in un secondo momento si è creata la collezione e lui ha sposato aveva sposato appunto con un matrimonio di convenienza possiamo dire politico combinato e l'onora di Toledo quindi si imparentò questa casata molto importante spagnola e lei qui è ritratta in un ritratto ufficiale guardate con una veramente eleganza un'altezzosità una una superbia anche quasi incredibile che lui riesce a rappresentare con veramente un ritratto celebrativo questo era il ritratto diciamo che doveva celebrare lei come donna e sposa di Cosimo chi è quel fanciullino di circa due anni e mezzo Giovanni De Medici che poi diventerà cardinale ma che morirà molto presto non aveva neanche vent'anni purtroppo di malaria anche lei morirà quarantenne di malaria pensate che il loro rapporto tra Cosimo e Eleonora fu un rapporto invece straordinariamente unito loro si sposarono per convenienza ma in realtà poi nacque un amore molto forte noi sappiamo che ebbero undici figli lei era una donna molto gelosa molto legata a Cosimo una grande fedeltà che a quei tempi insomma non era facile lui si spostava spesso per motivi di lavoro per combattimenti per motivi diplomatici e sappiamo che lei aveva queste crisi proprio legate al distacco dal suo Cosimo era una donna molto riservata non usciva molto spesso però amava circondarsi di gioielli abiti soprattutto era molto molto amante di gioielli particolari infatti come vedete sia nel ritratto di prima adesso ci torneremo sia in questo ecco guardate insomma il nostro bronzino ce la ritrae come la vedeva questi sono ritratti celebrativi e sicuramente ecco questi erano gli abiti i gioielli che lei indossava una donna molto bella di grande fascino con questi capelli castani occhi castani questo volto candido e devo dire insomma che anche Cosimo in questo ritratto sempre di bronzino questi sono due dipinti che non si trovano agli uffizi ma ve li ho messi proprio per mostrarvi questa coppia così particolare poi ecco per mostrarvi anche lo stile di bronzino che è eccezionale come ritrattista perché ci interessa la nostra Leonora di Toledo come donna ecco vi dicevo una figura molto importante lei era anche logicamente molto legata a quello che era il suo casato importante era una proprietaria terriera aveva anche dei possedeva anche dei terreni intorno a Pisa delle zone paludosi che poi vennero bonificate infatti sullo sfondo non so se avete fatto caso questo non è uno sfondo qualsiasi è un cielo blu un blu lapislazzuli costosissimo che come vedete ha una sorta di aura intorno leggermente più chiaro intorno al volto di Leonora si va scurendosi verso l'esterno come una sorta di grande aureola proprio perché l'idea del pittore forse anche la volontà di Leonora era quella di creare un'opera che celebrasse la sua figura in maniera sacra una sorta di sacralizzazione del suo potere e della sua figura di donna quindi se ci fate caso sembra quasi una madonna col bambino ovviamente in vesti molto diverse però l'idea di icona in qualche modo c'è lo sfondo vi dicevo rappresenta un paesaggio si intravede un paesaggio non si vede molto bene ma in basso c'è una sorta di palude quindi potrebbe essere questa una sorta di rappresentazione proprio celebrativa anche di Leonora come proprietaria terriera di queste terre paludose che poi farà bonificare quindi una donna che in qualche modo in prima fila si pone come la sposa di Cosimo ma allo stesso tempo lei stessa una donna insomma importante quello che a noi interessa di questo dipinto però sono i gioielli e l'abito perché intanto perché questo è un abito che ci mostra l'unione perfetta di una di un broccato spagnolo con la manifattura fiorentina quindi è proprio l'idea in qualche modo di celebrare quest'unione no è bellissimo l'effetto no di questo di questo broccato con questi fili d'oro con questo sfondo d'argento le perle perle di fiume incastonate nell'oro piccole perle che vanno no comunque a decorare questa sorta di cintura una cintura d'oro probabilmente progettata da benvenuto Cellini addirittura con un grande orafo con un dei diademi insomma una raffinatezza e un'eleganza che davvero sembra di poter toccare tutto era celebrativo e anche simbolico la perla non a caso è simbolo di purezza è un elemento che ritroviamo molto spesso in questi abiti no e guardate anche i colori no questi colori meravigliosi che brillano proprio di luce di luce propria una qualità straordinaria questa è un'opera che incanta proprio anche per la quantità qualità ricercatezza di questi gioielli che poi sono stati studiati e sono stati ritrovati i prototipi veri originali che ovviamente erano diciamo usati dalle donne dalle nobili del tempo l'abito si è pensato che potesse essere lo stesso abito con il quale Eleonora venne sepolta quando sono state fatte le resumazioni delle tombe medice nella fine dell'ottocento e poi in un secondo momento negli anni venti del novecento si è cercato di ricomporre quello che poteva essere il disegno ovviamente lo stampo insomma decorativo di questo abito e si è visto che non c'erano grandi similitudini ma ecco inizialmente si era supposta questa coincidenza comunque ecco la qualità dell'opera insomma ci mostra proprio la sua capacità ritrattistica Bronzino non ha ritratto solo loro ha fatto tanti ritratti di famiglia non solo della famiglia Medici ma anche di tante famiglie nobili del tempo e è rimasto celebre nella storia dell'arte proprio come ritrattista e adesso in quegli anni c'era anche tutto un altro filone che divertiva possiamo dire i nobili fiorentini e che era un filone completamente diverso rispetto alla pittura sacra rispetto alla ritrattistica era questo filone di pittura un po' mitologica classicheggiante quindi vi ho portato giusto così come assaggio questo dipinto molto curioso di Piero di Cosimo Piero di Cosimo è un pittore che aveva anche un carattere molto particolare ci diceva Zari non voleva mai pulire la sua casa si lavorava immerso in grande disordine pieno di tacquini di incisioni di libri insomma un uomo un po' particolare e questa è una delle opere forse più celebri di Piero di Cosimo che è stato tra l'altro molto amato dai suoi contemporanei quest'opera venne replicata venne osservata e rappresenta un mito tratto dalle metamorfosi di Ovidio è la liberazione di Andromeda è un dipinto che ci mostra questa corrente fiabesca pittoresca un po' fantasiosa che evidentemente doveva comunque un po' attrarre la mente dei nobili e meno nobili della città di Firenze si vede l'Andromeda che viene abbracciata dalla madre disperata che ovviamente sa la fine di sua figlia lei che è legata a quest'albero sta per essere divorata da questo mostro questo drago guardate sembra uscito da un film horror da un film di fantascienza contemporaneo è un mix di animali mostruosi qui si vede il papà di Andromeda con il futuro sposo che si disperano ovviamente per la fine di Andromeda la mamma anche qui ancora una volta accasciata in un pianto e poi l'arrivo di Perseo che si libra nel cielo con le sue calzature alate uccide il drago e ovviamente a destra come una sorta di fumetto si vede lei liberata che sta per celebrare le nozze con Perseo quindi alla fine l'unione dei due giovani ecco quest'opera ve l'ho messa proprio perché è molto diversa da tutte le altre ma fa parte di questo gusto proprio rinascimentale del tempo ci sono anche molti dettagli carini questi villaggi queste rocce questi paesaggi un po' fantasiosi che si inseriscono nel mito che viene raccontato e ecco ancora una volta qualche dettaglio molto curioso la pittura poi vedete molte sfumature questi effetti un po' pastello dopo questo piccolo escursus nella pittura di Piero di Cosimo ritorniamo ai grandi abbiamo parlato di Botticelle abbiamo parlato di Leonardo e quindi non potevamo non veramente scambiare due parole su questo dipinto che è anche qui famosissimo il tondodoni ancora una volta un tondo quindi un dipinto che ci mostra questa forma molto affascinante anche per i pittori un'opera che è Michelangelo è l'unica opera pensate mobile che noi abbiamo di Michelangelo lui era uno scultore parliamoci chiaro lo sappiamo l'abbiamo visto lui si si fregiava proprio di essere scultore ebbe tanti dubbi anche no nel dipingere la Cappella Sistina perché era una tecnica che non gli apparteneva eppure ecco anche quest'opera è straordinaria il tondodoni ce lo dice il nome venne commissionato probabilmente per un matrimonio non sappiamo bene se per il matrimonio di Agnolo Doni e Maddalena Strozzi o per il battesimo della loro prima figlia lo sappiamo perché c'è uno stemma questo è lo stemma della famiglia Strozzi quindi queste tre mezzelune incrociate la cornice fu progettata dallo stesso Michelangelo è un'opera eccezionale è un'opera meravigliosa perché ha guardate questa centralità scultoria della Sacra Famiglia quindi una celebrazione ovviamente della Sacra Famiglia che sembra quasi una scultura questo era proprio lo stile della terza dimensione molto evidente di Michelangelo e poi uno sfondo molto enigmatico che ora andremo a scoprire c'è un San Giovanni Battista che fa da cesura dietro ci sono tutti corpi nudi in pose un po' atletiche quindi ecco un'opera tra sacro e profano da dove viene la cornice? questa è una cosa carina interessante vedete che ci sono tutti medaglioni dai quali si affacciano come dei clip e dai quali si affacciano delle figure in aggetto viene come idea dalla famosa porta d'oro del Ghiberti quindi il Battistero di Firenze come questo è lo stesso Ghiberti come vedete è un'idea diciamo di tradizione fiorentina quindi Michelangelo insomma era un monumento che avrà visto molte volte passando di fronte al Battistero e quindi si cimentò in questa cornice particolare il Tondodoni ha un prototipo un modello di riferimento possiamo dire che è un'opera di Luca Signorelli probabilmente essendo Luca Signorelli un artista che aveva lavorato per un esponente della famiglia Medici molto probabilmente Michelangelo lo vide proprio nella sua collezione nella collezione di Pierfrancesco Medici quindi si ispirò a questa idea del Tondo ma soprattutto da vedete Luca Signorelli prende l'idea di queste figure nude sullo sfondo e le replica è un'opera che ci mostra appunto una celebrazione dell'umanità una celebrazione del sacro e del profano un'idea come vedete di sacralità grazie al Battesimo ecco perché il San Giovanni queste figure nude sullo sfondo molto probabilmente rappresentano l'uomo non battezzato quindi il Paganesimo e il passaggio ovviamente la cesura è questo muretto con il San Giovanni Battista quindi l'idea poi ovviamente di entrare in una dimensione cristiana diversa guardate la bellezza anche di queste tre figure che sembrano una colonna questa posa atletica di Maria che si gira si ruota su se stessa per prendere il bambino Gesù sembrano sculture pittoriche da dove vengono queste figure sullo sfondo Michelangelo guardava molto all'antico lo sappiamo la scultura antica guardate come lui si è ispirato alla classicità questa figura che vediamo con il braccio teso si rifà al famoso Apollo del Belvedere ve lo ricordate forse l'abbiamo visto in Museo ai Vaticani in una delle nostre lezioni questa figura un po' vedete quasi seduta che ruota il suo corpo si rifà il famoso Laoconte del Belvedere anche questa opera fu pensate ritrovata proprio nel periodo in cui Michelangelo era a Roma stava lavorando e lui era presente al ritrovamento quindi tutte suggestioni che vengono dall'antico e Michelangelo le riporta nella sua arte guardate la Sibilla con questa rotazione straordinaria questi muscoli quasi mascolini il nostro Raffaello la deposizione Baglioni qui siamo negli stessi anni quindi c'è proprio un copiarsi qui non sappiamo se è Raffaello che ha copiato Michelangelo o Michelangelo che ha copiato Raffaello perché siamo nello stesso anno 1507 questo per dirvi come le immagini e diciamo le iconografie poi giravano da un artista all'altro ecco questo stile di Michelangelesco fu molto criticato questo tondo quest'opera perché i colori erano troppo forti troppo smaltati le forme erano troppo tornite troppo scultore quindi fu un'opera anche in parte criticata e c'è un aneddoto carino Michelangelo era cosciente della sua qualità pittorica e quindi fece pagare un bel po' questo dipinto e Agnolo Doni non lo voleva pagare perché gli sembrava troppo caro 70 ducati gli sembrava eccessivo e quindi Michelangelo lo fece recapitare a casa del suo committente ma non ricevendo il pagamento se lo fece riportare a casa fin tanto che Agnolo Doni non decise di pagare ma Michelangelo decise di raddoppiare la cifra quindi alla fine diciamo fu un escamotage per prendere più soldi dal suo committente che era insomma un uomo anche abbastanza benestante diciamo così insomma più che benestante quindi il nostro Tondo Doni lo lasciamo adesso alle nostre spalle ancora una volta un dettaglio vedete di questi corpi nudi un po' manieristi di questo San Giovannino e andiamo a scoprire le nostre due ultime opere due donne bellissime qui siamo di fronte a Tiziano ora nella collezione degli uffizi c'è tutta una sezione dedicata alla pittura veneta quindi abbiamo Sebastiano del Piombo c'è qualcosa di Giorgione Tiziano e soprattutto è una sorta di sfilata della bellezza femminile ora qui c'è un altro grandissimo capolavoro questa è la Venere di Urbino chiamata così perché il committente fu Guido Baldo ovviamente da Montefeltro quindi un altro esponente importante di questa famiglia e la donna in questo caso non è Venere ma è la sua sposa quindi è una sorta di allegoria un invito a quella che poi doveva essere l'amore coniugale ora questo quadro è molto interessante perché come vedete c'è Venere che è simbolo di questa bellezza suprema di questa perfezione ma è una Venere che ci invita ad entrare nella sua casa che non è una una casa ovviamente del tempo non è non c'è nulla di mitologico non c'è nulla di antico questa è una casa tipica del Quattrocento è un palazzo è probabilmente la camera da letto una delle camere da letto del palazzo di Urbino si vede anche un po' lo stile tipico di questo edificio c'è una grande cassa panca ci sono queste due ancelle che stanno rovistando guardate anche i tessuti sulle pareti che molto spesso venivano messi proprio per mantenere calde le pareti c'è questo drappo insomma è un ambiente intimo domestico e lei è dolcemente vedete distesa su questo letto un letto disfatto ci sono delle rose quindi tutte allusioni ad un amore che doveva essere consumato però è una venere che si è diciamo sensuale ha questo volto un po' ammiccante ma è comunque molto casta si copre in qualche modo il pube c'è un cagnolino che dolcemente dorme ai piedi di venere che è simbolo della fedeltà coniugale quindi è una donna che veramente nella sua dolcezza ci invitano a partecipare a quella che è questo momento insomma nella sua nella sua casa da dove viene questo modello dal famoso Giorgione non poteva ovviamente Tiziano non guardare ad un prototipo molto famoso che è la venere addormentata bellissima tra l'altro guardate questa fanciulla che appunto rappresenta venere in questo paesaggio molto veneto tipico proprio di Giorgione che addormentata in questo sonno straordinario quindi sicuramente ecco il prototipo viene sempre dalla pittura dalla pittura veneta eccola chi è lei è Giulia Varano la moglie di Guido Baldo sposa pensate a 11 anni questo è il ritratto privato Guido Baldo fece fare diversi ritratti di questa fanciulla della sua sposa e logicamente questo non era il ritratto ufficiale non sarebbe stato possibile era il suo dono personale come una sorta di invito possiamo dire appunto all'amore coniugale al dischiudersi di quella che era in qualche modo la giovinezza di questa ragazza e ovviamente fu un dipinto insomma tenuto comunque tra le mura domestiche bellissima questa goccia questa perla a forma di goccia ecco un volto meraviglioso qui si racchiude proprio tutta la capacità di Tiziano come grande ritrattista e anche con una grande varietà non riusciva a rappresentare veramente fanciulle dolcissime ma allo stesso tempo anche ritratti molto potenti dettagli molto belli qui c'è l'alloro come vedete una piantina di scusate di mirto simbolo il mirto come per il cagnolino di fedeltà coniugale di amore coniugale ci sono le rose ancora una volta l'abbiamo già vista nella scena di Venere appunto di Botticelli quindi tutti elementi simbolici allegorisce il cagnolino guardate anche la pittura come è tipica dello stile insomma di Tiziano queste due ancelle guardate gli abiti insomma il pavimento che si da questo effetto prospettico eccola sempre lei quindi Tiziano utilizzò come modella sempre la stessa donna che ovviamente non sappiamo se fosse proprio Giulia Varano fosse un'altra fanciulla che si prestava magari nelle fattezze simili a fare da modella però questi sono i due ritratti ufficiali in modo particolare questo è detto la bella di Palazzo Pitti quindi è sempre conservato a Firenze e è sempre lei ecco il volto lo riconosciamo con questi occhi castani questo profilo molto dolce questo è un abito ovviamente di cerimonia con questa bella acconciatura era il ritratto ufficiale di matrimonio quindi logicamente ecco noi abbiamo le due versioni possiamo dire quello intimo personale privato di Guido Baldo per la sua giovane sposa e quello ufficiale quindi questa è un po' la bellezza così un po' sfuggente molto elegante e ovviamente ricca di dettagli del nostro Tiziano e adesso noi chiudiamo concludiamo la nostra la nostra passeggiata serale tra le bellezze degli uffizi con un altro quadro molto celebre però anche molto enigmatico qui siamo di fronte ad una madonna molto sui generis è conosciuta come la madonna dal collo lungo perché ecco come vedete bene ha questo collo affusolato queste mani molto lunghe affusolate anch'esse e ha anche una posizione molto strana vi dicevo questo quadro nasconde sotto diciamo all'apparenza molte storie è una madonna col bambino sì è vero ma è una madonna anche molto strana intanto guardate la posizione sembra appoggiata su un piedistallo no? Maria appoggia i piedi su questi due cuscini ha questo abito molto aderente che è sembra un abito all'antica che diciamo mette il rilievo mostra proprio la nudità si vede il seno si vede l'ombelico quindi anche un po' no? in qualche modo seducente c'è una colonna sullo sfondo quindi una sorta di madonna che si pone come colonna portante c'è un bambino Gesù che guardate non ha nulla a che vedere con le rappresentazioni che noi conosciamo del bambino Gesù non è frontale non gioca con la madre non è addormentato non è interattivo sembra quasi addormentato in un sonno mortale il colore è candido non si vedono neanche gli occhi aperti sono proprio chiusi il suo braccio vedete pende quasi fosse morto no? sulle ginocchia della madre quindi c'è già qui racchiusa no? ovviamente la prefigurazione della pietà sembra quasi Maria che tiene il corpo morto di Cristo no? i fanciulli gli angeli non sappiamo chi siano queste figure che si di angioletti di fanciulli così un po' anche enigmatici con queste gote rosa che no? si affacciano alla scena in realtà probabilmente non sono angeli quest'opera è stata letta diciamo seguendo un po' quello che era lo spirito di Parmigianino del pittore che era un grande amante dell'alchimia una sorta di scienziato amante degli esperimenti dell'alchimia della filosofia e quindi si è pensato che appunto queste figure potessero essere la rappresentazione di alcuni elementi della natura il vento il fuoco l'aria che si compongono insieme in qualche modo accanto a questa figura della Madonna col bambino come una sorta di grande diciamo allegoria della madre terra bellissimi sono i dettagli sicuramente perché Parmigianino insomma era un artista di grande anche lui gusto raffinatezza siamo già un po' nel mondo quasi manierista no? e guardate i volti no? sono enigmatici questi fanciulli no? che si affacciano vedete ancora il bambino Gesù quasi ti dicevo addormentato in questo sonno profondo Maria Maria non ha niente a che vedere con una icona sacra è un volto straordinariamente attuale guardate ecco no? in qualche modo anche il tratto degli occhi questa bocca un po' no? fusolata ma poi l'acconciatura meravigliosa insomma davvero è uscita quasi da quella che era la cultura del tempo insomma le dame della Parma del secondo del Cinquecento e poi c'è un dettaglio guardate questo San Girolamo c'è la sua firma c'è San Girolamo che è quasi sbozzato no? sembra quasi un disegno non finito che sta leggendo una sorta di cartiglio e poi si intravede un piedino ma non c'è altro perché qui doveva essere dipinto San Francesco l'opera doveva essere realizzata per una chiesa francescana e quindi c'era molto probabilmente l'immagine di San Francesco poi forse un cambio d'opera un cambio di idea in corso d'opera ecco portò Parmigianino a dipingere solo il San Girolamo quindi noi abbiamo solo la figura di questo personaggio e manca il San Francesco l'opera ecco ha fatto anche questa la storia dell'arte perché è una madonna molto molto particolare è molto intrisa anche appunto di elementi un po' alchemici anche questa figura affusolata con questo collo lunghissimo insomma molto affascinante molto sinuosa e quindi ecco mi piaceva un po' chiudere con questo dipinto perché ecco è sicuramente un dipinto abbastanza curioso e quindi a questo punto io tolgo la condivisione ho cercato di velocizzare un po' la presentazione perché che Grazie.